C'è chi sostiene, proseguì il signor Gradgrin sempre esitando, che vi sia una saggezza della mente e una saggezza del cuore. Non ci ho mai creduto, ma, come ti ho detto, diffido ormai di me stesso. Ho sempre ritenuto che la mente potesse bastare a tutto. Forse non è così. Come potrei arrischiarmi a sostenerlo ancora stamane? Se quell'altro genere di saggezza fosse quello che io ho trascurato e fosse invece l'istinto, ciò di cui abbiamo bisogno, Luisa. Il tono era assai dubbioso, come se fosse riluttante ad ammetterlo persino allora. Luisa non rispose e restò distesa sul letto là davanti a lui, ancora mezzo vestita, come l'aveva vista la sera precedente, quando s'era acasciata sul pavimento dello studio. Luisa soggiunse posandole di nuovo la mano sui capelli. In questi ultimi tempi sono stato spesso lontano da casa, e benché tua sorella sia stata educata secondo il sistema, pareva sempre restio a usare quel termine. Esso è stato necessariamente modificato da contatti quotidiani iniziati, nel suo caso, in tenera età. Ti chiedo ora, umilmente, figlia mia, conscio della mia ignoranza. Ritieni forse che sia stato meglio così? Padre, rispose lei senza muoversi, se nel suo giovane cuore si è destata quell'armonia che rimase muta nel mio finché non si mutò in dissonanza, ebbene, che ringrazi il cielo. Prosegua per il suo cammino, che sarà più felice di quello da me percorso, e si consideri benedetta per non aver seguito la mia strada. Bambina mia, bambina mia, replicò sconsolato il signor Gradgrind. Mi rende così infelice vederti in questo stato. Che conforto può mai venirmi dal fatto che tu non mi rimproveri, se già io stesso mi rimprovero così amaramente. Chinò il capo e riprese a parlare a voce bassa. Luisa, mi sorge il dubbio che in questa casa, attorno a me, si siano pian piano operati dei mutamenti dettati unicamente dall'amore e dalla gratitudine, e che ciò che la mente ha lasciato incompiuto e non poteva compiere, sia stato invece il cuore a compierlo in silenzio. È possibile. Luisa non rispose. Non sono così orgoglioso da non crederlo, Luisa, come potrei essere ancora arrogante con te davanti. È possibile. È così, mia cara. Guardò ancora una volta la figlia che giaceva lì abbandonata, e senza aggiungere altro uscì dalla stanza. Non se n'era andato da molto, quando Luisa udì un passo leggero vicino alla porta e percepì accanto a sé una presenza. Non sollevò il capo, al pensiero che qualcuno potesse assistere al suo dolore e che quello sguardo involontario che tanto l'aveva ferita a suo tempo potesse ora trovare soddisfazione. Fu presa da una collera sorda che la consumava come un fuoco maligno. Tutte le forze troppo a lungo imprigionate, quando esplodono, portano distruzione. Anche l'aria così vitale per la terra, l'acqua portatrice di ricchezza, il calore che conduce a maturazione, si trasformano, se ingabbiate, in forze devastanti. Così avveniva anche allora nel suo cuore. Le sue migliori qualità, troppo a lungo accanite contro se stesse, si erano trasformate in un cumulo di ostinazione, pronto a sollevarsi contro un'amica. Fu un bene che una mano le si posasse lievemente sul collo e che Luisa percepisse che l'altra persona la credeva addormentata. La tenerezza di quella mano non scatenò il suo ancora, che restasse, restasse dov'era. La mano rimase dov'era, richiamando in vita uno stuolo di pensieri più dolci, e Luisa si acquietò. E mentre si abbandonava alla pace, consapevole di quella vigile presenza, gli occhi le si colmarono di lacrime. Il viso sfiorò il suo, scoprì che anch'esso era coperto di lacrime e che lei ne era la causa. Quando Luisa, fingendo di destarsi, si mise a sedere, Sissi si tirò indietro e rimase in piedi accanto al letto. «Spero di non averti disturbata. Sono venuta a domandare se posso restare qui, vicino a voi. Perché dovresti restare qui con me? Mia sorella sentirà la tua mancanza. Sei tutto per lei». «Sul serio?» rispose Sissi, scuotendo il capo. «Vorrei essere qualcosa anche per voi, se potessi». «Che cosa?» ribatté Luisa quasi bruscamente. «Tutto ciò di cui avete più bisogno, se ci riesco. In ogni modo vorrei provare ad arrivarci il più vicino possibile. Non mi stancherò di tentare, per quanto ne sia lontana. Mi lascerete?» «È mio padre che ti ha mandato a chiedermelo». «No davvero», rispose Sissi. «Mi ha detto che adesso potevo entrare, ma stamattina mi ha mandata via dalla stanza, o comunque...» ebbe un istante d'esitazione e tacque. «Comunque che cosa?» disse Luisa, lanciandole un'occhiata indagatrice. «Ho pensato che fosse meglio così, che mi avesse allontanata. Non ero sicura che vi avrebbe fatto piacere trovarmi qui». «T'ho sempre odiata tanto?» «Spero di no, perché io vi ho sempre voluto bene, e ho sempre sperato che lo sapeste. Ma poco prima di andarvene da casa siete cambiata nei miei confronti. Voi sapevate tante cose, io sapevo così poco, e poi andavate a stare con altri amici, ed era naturale che io non avessi niente da recriminare, che non mi sentissi ferita». Arrossì, mentre timidamente pronunciava in fretta queste parole. Luisa capì che quella scusa era dettata dall'affetto e il suo cuore ne fu toccato. «Posso provare?» domandò Sissi, osando sollevare la mano a sfiorare il collo che insensibilmente si piegava verso di lei. «Prima di tutto, lo sai chi sono io? Sono così superba e inasprita, così confusa e tormentata, così piena di risentimento e così ingiusta verso gli altri e verso me stessa, che tutto per me è tempesta, tenebra e malvagità. Non ti disgusta tutto ciò? No. Sono così infelice e tutto quello che avrebbe potuto rendermi diversa è distrutto a tal punto che neppure se fossi sempre stata, fino a questo preciso istante, completamente priva di buonsenso e non così istruita, come mi credi, neppure se dovessi cominciare ad apprendere le più semplici verità potrei sentire con maggior violenza la necessità di una guida che mi dimostri la via della pace, della serenità, del rispetto, di tutti quei valori, insomma, di cui sono assolutamente priva. Non ti disgusta tutto ciò? No. Con la semplicità e l'audacia del suo affetto e l'affiorare dell'antica devozione, la ragazza un tempo abbandonata risplendeva come una vivida luce contro le tenebre dell'altra. Luisa sollevò la mano di Sissi affinché, riunendosi all'altra mano, potesse cingerle il collo. Poi cadde in ginocchio e, abbracciando la figlia del saltimbanco, la guardò quasi con venerazione. Perdonami, abbi pietà, aiutami, abbi compassione di me nel bisogno e lascia che io posi la testa su un cuore capace di amare. Oh sì, posatela, posatela qui, mia cara.